Parking My Car nasce nel 2019, nasce come portale di prenotazione parcheggi aeroportali portuali. L'idea nasce appunto da un disservizio che incontrai anni prima presso l'aeroporto di Pisa e da lì poi nasce l'idea di cercare di offrire un servizio che possa realmente garantire la sosta nelle principali location in termini di viaggio. Nel 2019 appunto lanciamo una piattaforma a livello appunto di prenotazioni di parcheggi aeroportuali portuali che si sviluppa sino al giorno d'oggi. L'ambizione appunto sin dall'inizio era quello di creare un ecosistema parcheggio per cui non legato assolutamente a una tipologia di parcheggio in ambito appunto aeroportuale portuale cittadino ma creare un ecosistema in cui io posso risolvere in totale il problema parcheggio per cui pensare al parcheggio e risolverlo tramite Parche My Car. Ad oggi offriamo servizi di tutti i tipi in ambito parcheggio per cui la piattaforma non si ferma esclusivamente in ambito aeroportuale portuale ma si sviluppa poi in ambito cittadino per cui abbiamo cercato di creare un ecosistema completo in cui io posso risolvere il problema parcheggio a prescindere dal tipo di parcheggio che sto cercando o dalla location nella quale la sto cercando. Oggettivamente la difficoltà principale era che ci trovavamo in una regione su cui i servizi dedicati alle start-up erano sicuramente minori al confronto di altre regioni italiane. Inizialmente è stato un percorso un pochino più difficile non avevamo possibilità in termini sicuramente economici dunque il problema principale era questo. Abbiamo cercato di andare avanti reggendo quelle che sono state le difficoltà che riscontravamo e soprattutto la difficoltà principale come in realtà in tutte le aziende l'abbiamo iniziato a riscontrare al momento in cui è subentrata la pandemia nelle nostre vite. Successivamente a fronte poi dell'accesso ad un processo di incubazione offerto da un incubatore locale nonché poi da un apporto di investimento da un imprenditore sempre locale siamo riusciti a poter creare il nostro team e quindi aggiungere persone a questo progetto che potessero realmente farlo avanzare in maniera giusta e per le prospettive che ci siamo preposti sin dall'inizio. Io credo che questo sia l'obiettivo principale di qualsiasi persona che ambisce a creare l'impresa per cui l'obiettivo primario è proprio riuscire a garantire un posto ad altre persone dunque sicuramente questa è la cosa che più rende felici nel momento in cui si cerca di creare un progetto che sia poi appunto legato ad un business. Allora ParkingMyCar sostanzialmente offre servizi di parcheggio quindi all'interno di qualsiasi circuito quindi parcheggi lunga sosta, aeroporto, porto, parcheggi cittadini, orari e parcheggi di superficie quindi la classica striscia blu. Si può trovare tramite la piattaforma web quindi parkingmycar.it o scaricando l'applicazione su tutti gli app store.